Con noi la professoressa Provenzano, quanto è importante per questo istituto affrontare questa tematica dell'integrazione della multietnicità? Multietnicità e il valore dei diritti umani e il loro rispetto è uno dei temi fondamentali di un nostro progetto. Io sono la referente del progetto Cittadinanza e Costituzione. Tra i vari progetti quest'anno abbiamo dedicato uno proprio a questa tematica più che mai attuale. Oggi i ragazzi hanno già incontrato queste diverse associazioni che si occupano di portare questo messaggio di fratellanza, di rispetto di tutte le etnie e soprattutto di evidenziare quanto qualsiasi civiltà e qualsiasi cultura degna di rispetto deve essere benvenuta anche in un mondo occidentale come il nostro. Le varie associazioni, poi adesso incontrerete i vari rappresentanti, hanno esibito materiali, cibo, diverse mostre fotografiche eccetera eccetera e adesso interverranno anche in auditorium proprio per presentare il loro servizio e i loro messaggi ai nostri studenti perché il compito principale della scuola è proprio quello di educarli alla tolleranza e soprattutto ad apprezzare la diversità. Il diverso è una ricchezza e non è al contrario una minaccia e questo è fondamentale. Allora due aspetti vengono qui sottolineati in questo progetto e in questa giornata. Da una parte il valore appunto delle multietnie e il loro rispetto e poi tratteremo anche altro problema più che mai attuale cioè quello dei profughi e dei problemi che sono più che mai incombenti di mura, di rifiuto e di intolleranza nei loro confronti. Oggi pomeriggio infatti ci sarà anche la presentazione del libro di un giornalista di Rai 3, Davide Cavarrone. Questo è un uomo che appunto cercherà di sensibilizzare e di conversare con i nostri studenti proprio su quest'altro aspetto di questa giornata. La vostra associazione Beiti Beiti si occupa da diverso tempo di tutte le varie forme di tolleranza e integrazione. E qui in particolare perché oggi avete deciso di sposare questa giornata? Allora intanto per noi è un dovere, un diritto e soprattutto un piacere essere qui per dimostrare appunto ai ragazzi che esistono in realtà locali che lavorano appunto per l'educazione interculturale che per noi è sempre stato sinonimo di educazione all'accoglienza. Rai 3Batic lavora infatti in due ambiti particolari. Uno è proprio l'educazione all'accoglienza dell'altro e quindi fa percorsi appunto educativi con gli autoctoni per insegnare che il fenomeno migratorio deve essere conosciuto dal punto di vista non tanto mediato ma diretto e quindi cerchiamo appunto di educare a questo principio che per noi è un principio assoluto per cui tutti quelli che sono i fenomeni che adesso sentiamo quindi la migrazione, comunque la tratta dei nuovi schiavi, i rifugiati sono temi che bisognerebbe conoscere dal punto di vista interno prima che dall'esterno. Parallelamente lavoriamo anche in Burkina Faso da circa 5 anni con progetti di cooperazione internazionale che per noi è volontariato internazionale ovvero siamo ragazzi normalissimi che hanno un'idea in testa cioè quella di provare innanzitutto prima sulla propria pelle cosa significa vivere determinate situazioni cooperare insieme per arrivare a un punto di svolta cioè un piccolo sviluppo che può essere economico come sociale in quel villaggio e poi riportare la nostra esperienza diciamo qui a Palermo o a Partinico in questo caso come oggi. Padre Dario, grazie al suo operato Partinico fisicamente in modo concreto è andato nei posti più bisognosi diciamo nel mondo a portare quello che può essere comunque materiale di conforto sia spirituale che in modo concreto ci parli impienamente di questo progetto che lei ha intrapreso già da tempo? Sì, diciamo che la multietnicità è una base della politica della Tanzania da quando nasce un po' la Repubblica d'Opera di Giulio Sogniaghere è un socialista morto anche in fama di santità addirittura questa dimensione di più etnie che devono convivere nello stesso villaggio nella stessa zona e cosa ha portato avanti proprio ha fatto sì che questa nazione è stata una delle nazioni più pacifiche di quella zona lì siamo nell'Africa subsahariana siamo dove attorno alla Tanzania gravita il Kenya, Ruanda, Burundi con tutte le varie problematiche che ci sono state la Tanzania è stata una delle nazioni che è riuscita proprio grazie a una politica in tutti questi anni a mantenere diciamo uno stato di pace potremmo dire e lì si inserisce da diversi anni l'associazione Akuna Matata attraverso il sostegno a queste popolazioni soprattutto con quel famoso detto di un manifesto missionario degli anni 70 che diceva se vuoi aiutare non dare un pesce ma insegna a pescare quindi soprattutto con la costruzione di scuole in abito ecoscolastico, asili, chiese ma anche in ambito lavorativo soprattutto con le scuole di fallegnaveria e di cucito dove appunto queste ragazze ad esempio nella scuola di cucito dopo i due anni di formazione portano con sé non soltanto il bacaglio di conoscenze che hanno imparato ma anche con la macchina da cucire su cui hanno lavorato, su cui hanno imparato se la portano nel villaggio è un dono che dà la missione, che dà l'associazione e lì iniziano subito a lavorare diciamo progetti di microcredito li potremmo chiamare Akuna Matata ci ricorda il nostro ordinario cartone animato che ha conquistato eredi giovani ecco quanto è importante appunto concretamente partire dai più piccoli per costruire sia in Italia ma anche fisicamente in quei luoghi che hanno bisogno un futuro migliore Eh sì, diciamo che tutto parte da lì nella formazione delle giovani generazioni che sicuramente sono quelli che fanno il futuro e in questi anni oltre al sostegno un po' del materiale, degli asili l'altro sostegno è stato quello proprio dei ragazzi che vogliono continuare nello studio soprattutto degli universitari e lì in questi 12 anni, 13 anni che c'è l'associazione abbiamo ora ragazzi che sono chi è avvocato, chi è medico che sono il futuro della Tanzania anche se diciamo un po' l'altro detto che dice che il futuro della Tanzania è donna e allora ecco il sostegno soprattutto all'imprenditoria giovanile ma che parte un po' da quelle che sono le ragazze vedersi la scuola di Cucito vedersi ad esempio in un villaggio dove proprio quest'anno a gennaio siamo andati ad inaugurare un ostello per giovani ragazze di una scuola lì vicino e che è gestito dalle mamme di quel villaggio proprio per far sì che queste ragazze possano andare a scuola lì vicino anche se vengono da diversi villaggi in quella scuola secondaria ma avere anche degli insegnamenti minimi che possono essere per gestire un po' la vita di ogni giorno Giuseppe Cusmano con la sua esperienza concreta nel campo dell'immigrazione ci racconta io niente di fatto sono stato tirato in ballo salve a tutti volevo dire spendere una prova su teleiato sono felice in questo momento di ecco perché insomma vi seguo anche su Facebook quindi mi fa piacere adesso entrare in contatto allora la mia esperienza nasce dalla dalla mia amicizia con l'ambasciatore italiano in Tanzania il dottor Luigi Scott il quale come diceva padre Dario si è approcciato a quelle zone perché lui ha girato un po' tutta la Tanzania quindi è entrato in contatto con tutte le realtà ha conosciuto padre Dario ha conosciuto padre Salvatore Ricceri che è l'altro padre missionario che opera in quella regione e si è innamorato del modo in cui questi uomini questi eroi silenziosi portano avanti questo loro progetto che come dicevi tu è quello di dare proprio l'istruzione ai ragazzi perché è quello il futuro mi ha coinvolto per raccogliere fondi quindi per dare una mano a raccogliere fondi e completare alcune scuole che erano già in costruzione adesso abbiamo in cantiere un'altra scuola da costruire un villaggio sperduto con delle problematiche particolari quindi il mio apporto è esterno io di fatto coordino quello che sarebbe un po' il volere dell'ambasciatore quello di aiutare i padri missionari, i padri Dario e il padri Salvatore nel costruire e completare queste scuole cioè il mio è un approccio esterno Professore Sapresti ci racconti come hanno appunto concretamente gli studenti partecipato a questa giornata con le varie ecco-iniziative e i vari elaborati il compito della scuola non è solo istruire i propri studenti è quello di formare le persone, formare i cittadini allora questa classe ha accolto con grande gioia la possibilità di partecipare al progetto di multiculturalità e poi si è interrogata sul significato che potesse avere un progetto di multiculturalità io insegno lettere il punto di inizio del nostro percorso è stata la lettura di un libro Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda che racconta la storia di un ragazzino che ha affrontato un lungo viaggio per arrivare a quella che può essere una possibilità di vita non tanto la libertà o la ricchezza ma una possibilità di vita ecco da lì i ragazzi hanno cominciato a interrogarsi a riappropriarsi del testo e restituirlo in modo creativo così da confrontarsi con un ragazzino che ho già la loro stessa età e vedere la differenza nei modi di vita da lì poi ci siamo chiesti su quali sono gli elementi che possiamo avere in comune noi e l'altro l'altro che per definizione fa paura perché è diverso e quindi è stato semplice andare ad individuare questi elementi nelle pulsioni vitali il bisogno del cibo il bisogno di una narrazione del sé da qui ci siamo messi a ricercare le nostre origini quindi un percorso improntato alla riscoperta delle tradizioni delle feste dei canti dei detti siciliani ma anche dei piatti tipici della lingua madre che è il dialetto e ci siamo accorti come tanta parte prestito arabo visto che la Sicilia nel centro del Mediterraneo ha accolto un po' tutti i popoli allora abbiamo scelto di voler aprire la nostra mente all'idea che è possibile essere ponte piuttosto che muro e quindi la scuola si propone in questa dimensione la dimensione di chi conoscendo se stesso vede nell'altro un proprio simile e quindi è pronto ad accogliere grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori